che se Guilherme si avvicina all'area sarà fallo, calcio di punizione contro i nerazzurri partita appena iniziata, intervento scomposto, non ci sono dubbi a punizione l'arbitro ha valutato attentamente questa azione è un gol che nasce dall'inzernità dei difensori perfetto il calcio di punizione ci hanno creduto e sono arrivati al gol dopo una bellissima azione punizione perfetta, chirurgica, che ha lasciato di stucco il portiere è di fronte a una pratezza così, bisogna soltanto applaudire la regia ci ripropone il gol da un'altra angolazione grazie